3, 2, 1, ben ritrovati al nostro live una nuova accoglienza. La nostra scuola ha aperto le porte ai bambini che dopo mesi hanno vissuto una varanga di emozioni a causa della pandemia. Come sempre gli ospiti sono tanti e i miei inviati con me mi faranno conoscere qualche segreto. Tutti abbiamo dei segreti, giusto? E adesso è proprio così, infatti ma un segreto di solito sta chiuso nel cuore. Ebbene noi vi vogliamo aprire un po' di questa parte di noi e lo faremo in una forma insolita. Vi racconteremo una storia, una strana storia, la storia del rientro a scuola. Tutti amano le sue emozioni. Già sensazioni positive che odorano di bambini e di semplicità, che purtroppo in questo periodo di emergenza anche i sentimenti facciamo fatica a provare. Ecco che gioia! Sono le emozioni al centro del primo percorso della nostra scuola. Un percorso che ha parlato al nostro cuore di piccoli, facendoci capire il valore e l'importante di ogni singola emozione. E ora iniziamo i vari collegamenti con i miei inviati. L'altro gruppo della prima. Com'è stato questo rientro a scuola? E cosa avete fatto? Avete fatto qualche attività di nuovo? Per la linea, siamo davanti alla classe prima. Come state di rientro a scuola? Cosa avete fatto di bello? Ehi, ma guarda il tuo pedale. Facci vedere! Avete fatto qualche attività divertente? Sì! Bravissimi! Grazie per la linea, siamo davanti alla classe seconda. Allora, com'è andato questo primo percorso di scuola? Bene! Cosa avete fatto di bello? Abbiamo sconato la poesia. Quale poesia abbiamo imparato? Bene! Allora ragazzi, cosa c'è di bello in questa scuola? È tutto! Tutto! Tutto? Bene! Ok! Grazie per la linea. Siamo davanti al rapporto della classe terza A. Come è andato questo primo percorso? Bene! Cosa avete fatto? Abbiamo lavorato e abbiamo fatto un bucchio di lavori bellissimi. Grazie alla linea della classe internazionale gruppo B. Com'è andato questo primo percorso di scuola? Bene! Cosa avete fatto? Bene! Siamo andati buoni! E' un nuovo percorso di calma! Bene! 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 E' un bucchio di calma. E' un bucchio di calma! L'internazionale gruppo B. E' un bucchio di calma! Cosa face a sede! Cosa face a sede! Grazie a tutti. Grazie per la linea. Sono davanti alla classe quarta A. Vediamo cosa ne pensano di questo primo percorso. Ragazzi, com'è andato il primo percorso? Siamo davanti alla quarta B. Vediamo cosa ne pensano questi ragazzi del diretto a scuola. Com'è stato questo primo percorso? Bello. Solo bello? Anche ma ci sono andate, è andato. Grazie per la linea. Ora siamo davanti alla porta della classe quinta. Ora vediamo questi ragazzi con cosa ne pensano. E' stato fattivoso dai morti o merendo. E' preoccupato d'attività. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.